ed eccoci siamo di nuovo insieme per la seconda parte del nostro appuntamento della sera grazie per essere ancora con me vi ricordo ancora anche il nostro indirizzo di posta per restare sempre in contatto con la redazione basta scrivere ad angoli chiocciola espansionetv.it è una seconda parte davvero molto molto originale nella quale parleremo di figure che sono importantissime ma lo faremo con i nostri ospiti ve li presento subito è qui con noi Charles Landorp buonasera Charles grazie per essere qui grazie a voi tu arrivi addirittura dall'Olanda sì sono olandese comunque già 20 anni che abito in Italia e tu sei presidente della Fellini Foundation giusto e ci parli questa sera di una delle mission di questa fondazione perché vi occupate dei nonni della festa dei nonni della celebrazione di queste figure che sono importantissime lo faremo tra poco perché ci sono anche gli altri ospiti e voglio salutare ringraziare Walter Bassani ciao Walter benvenuto ciao buonasera a tutti tu sei compositore un grande musicista ovviamente ci ricordiamo molto bene di te perché i meccano insomma sono nel nel cuore nel ricordo di tutti quanti e lo ricordo perché tu sei compositore proprio di una canzone che riguarda questo progetto così bello che si chiama tu sarai quindi poi parliamo anche di questo ma poi andiamo a salutare ovviamente anche Claudiano Di Caprio ciao Claudiano ciao ciao buonasera a tutti grazie per l'invito tu sei il sindaco di Galliate che guarda un po' è la città insomma che accoglie a braccio aperte questo bellissimo progetto la festa dei nonni i nonni tante belle cose abbiamo una clip se siete d'accordo la guardiamo insieme poi torniamo in studio vai regia grazie a tutti e questa clip ci ha anche riportato indietro in un'atmosfera che abbiamo lasciato davvero alle spalle da pochissimo quella del Natale Claudiano insomma qui abbiamo visto una bellissima città una bellissima atmosfera c'è un progetto molto bello quale? allora Galliate è una città molto attiva molto molto dinamica per una serie di circostanze ho conosciuto Walter tramite amici comuni e parlando abbiamo condiviso subito questa idea, questo progetto diciamo che il ruolo di sindaco mi ha portato a conoscere tantissime persone soprattutto nell'ambito della terza età e da qui l'idea di valorizzare ancora di più il ruolo dei nonni questi nonni che sono diventati in questi anni iper tecnologici iperattivi per cui l'idea anche insomma di dare un senso al loro ruolo parlando con Walter ci siamo confrontati e da qui diciamo che è stata una cosa nata subito spontaneamente vi siete capiti al volo? si si capiti al volo bene e quindi è nato Walter, è nato questo progetto, questa bella idea perché in effetti i nonni sono indispensabili al di là di tutto sono davvero indispensabili ma sono anche delle figure che davvero insomma tengono preziosi in sé i ricordi, anche forse un modo di educare alla vita diverso e quindi meno male che ci sono le tradizioni i nonni sono i custodi della conoscenza, della saggezza e quindi è chiaro che il progetto che è nato tanti anni fa con Charles è quello di mantenere vivo questo concetto, questa idea che i nonni con i bambini mantengono i nostri valori vivi nel tempo del resto basta osservare la vita ogni generazione educa quella successiva per cui se l'educazione dei piccolini in larga parte è in mano ad anziani responsabili abbiamo la certezza che le cose possono andare meglio siamo in buone mani io sono assolutamente d'accordo con te e poi guarda, ognuno di noi quando magari si racconta si ripensa a una figura alla quale siamo molto legati immancabilmente escono le figure dei nonni e quindi insomma assolutamente è proprio così Charles vengo da te perché tu sei un po' testimonial di questo progetto allora raccontaci un po' perché dall'Olanda qui insomma un motivo ci sarà racconta un po' la storia effettivamente è bellissima perché nasce nel 1997 io ero ancora in Olanda è stato un progetto europeo e grazie ai amici italiani perché c'era un grande amico Arturo Croci e Franco Locatelli praticamente loro, mi ha detto Charles, è importante che le nuove generazioni cominciano a capire più del mondo di fiori perché purtroppo i bambini sono un po' staccati dalla natura e abbiamo qui un esempio meraviglioso queste rose arrivano dall'Olanda anzi giustamente perché la festa di noi nasce un po' dal mondo di fiori e quindi abbiamo scoperto che effettivamente i nonni sono importantissimi ma anche di trasmettere la conoscenza della natura sono tutti di fiori eccetera e hanno dato l'idea di creare proprio una giornata specifica per loro e poi nel 2005 la festa di nonni è diventata una festa nazionale quindi quando noi abbiamo iniziato la gente inizialmente guardava un po' strano la festa dei nonni perché non sapevano era un po' particolare dopo quando è diventato nazionale chiaramente lì è partito alla grande io ho avuto la fortuna anche di incontrare un altro olandese Claren Seidoff che ci siamo conosciuti grazie a Consolato ma non è un olandese comune quello che hai nominato abbiamo anche una foto magari la regia riesce a recuperarcela un grande sportivo, insomma noi lo conosciamo proprio per le sue grandi dotte sportive ma tu sottolinei anche un altro aspetto di questa persona Sì, diciamo che lui a quel momento ha fatto partire un progetto importantissimo per i bambini e ha chiesto ai olandesi di fare qualcosa per la sua fondazione io devo dire che sono proprio colpito da questo messaggio e noi, la mia moglie, aveva una scuola di ballo e in quel momento avevamo fatto un saggio dedicato alla sua iniziativa e là lì è nata l'idea perché io ero già un po' la figura per la festa dei nonni di fare una fondazione che ha come obiettivo di mettere in comunicazione le generazioni quindi bambini e nonni e da lì abbiamo anche pensato la festa dei nonni chiaramente nasce in Italia ma i nonni sono in tutta Europa quindi sembra giusto che la festa dei nonni diventa anche una festa per tutti i nonni in Europa e da lì abbiamo portato la festa dei nonni in Olanda che anche lì è partito addirittura in Olanda è molto bello perché è nato con un progetto contro la solitudine un progetto che si chiama Insieme contro la solitudine perché ci sono anche tanti nonni soli e questo è un altro aspetto molto interessante infatti molto importante e poi noi, Valt, ti ricordi che con la fondazione Don Gnocchi noi abbiamo fatto anche qua un spettacolo con i bambini e mi ricordo ancora che c'era la signora dell'animazione che ha detto Charles è bellissima la festa ma ci sono anche nonni soli e lì abbiamo pensato sì, è giusto che la festa dei nonni diventa la festa per tutti i nonni e quindi abbiamo pensato di fare una storia una fiaba che hai portato con me bellissima guarda, se riesci a mostrarla a favore di questa camera guarda, controlla nella camera perfetto, l'hai mostrata eccola qua e quindi questa è una storia, una fiaba che parla di un nonno che lui non ha bambini cioè non ha figli ma ha solo un gatto quindi è una storia che racconta l'importanza perché questi bambini un certo giorno diventano questi gatti diventano bambini e quindi fanno capire che la festa deve essere una festa per tutti i nonni e devo dire un altro aspetto che dedico a Valt perché queste figure queste illustrazioni ha fatte la sua moglie la parla Crova che ha fatto davvero un grandissimo opera in tutto questo racconto però Charles quello che esce continuamente che mi piace tantissimo è intanto il tuo entusiasmo meraviglioso del quale ti ringrazio ma c'è anche tanta arte in tutto questo progetto partendo dalla meraviglia dei fiori poi c'è la recita ci sono questi canti questi balli anche addirittura un libro c'è molta emozione per questo Valter tutta questa introduzione questo cappello per tornare da te perché la musica e l'arte in generale sono molto importanti per l'educazione dei più piccoli cosa ne pensi? ti vedo a lui sì infatti che dici? la canzone la canzone è un mezzo inarrestabile nessuno può chiudere il cuore a una canzone quando ti arriva e dal mio punto di vista credo che sia importante rivalutare la canzone in quanto tale perché la definizione di canzone nasce nell'anno 1150 che viene definita così componimento poetico recitato cantato su una melodia quindi se non ci sono queste due caratteristiche tutto il resto che ci viene propinato non è canzone questo è anche un messaggio su tanta musica che gira ora allora quella che vediamo che ci arriva ora in modo arbitrario può essere collocata in prodotti di marketing la musica è un'altra cosa è un'altra cosa sono d'accordo con te quindi bisogna sempre fare una distinzione altrimenti tutto resta uguale a tutto la musica resta ancora oggi uno strumento di comunicazione universale e poi è sempre vincente perché quando bisogna muovere le folle per raggiungere un grande obiettivo dalla raccolta fondi a qualunque altra cosa guarda un po' sono sempre gli artisti e i musicisti brava mi hai aperto il discorso dietro ad ogni personaggio che si reputa un artista c'è una cosa che si chiama responsabilità del proprio ruolo la canzone apre il cuore poi sta la responsabilità dell'artista metterci dentro un messaggio che va verso la vita o al contrario e quindi e lì ci si gioca ecco perché è uno strumento è uno strumento di educazione la canzone è troppo importante quindi tenere i bambini insieme ai nonni con una canzone era un obiettivo importantissimo per me quando ho scritto i nonni insegnano senza parlare che senza amore questo mondo muore e cercano di farci capire qual è la strada per non soffrire e tu sarai un nome migliore se li porterai nel cuore perché lo sai che l'amore non muore mai e quegli occhi sinceri sono i bambini di ieri è venuta giù in tre secondi è come se l'avessi letta vuol dire che non so avevo il desiderio di farlo arrivare era proprio nel destino e ci doveva essere ragazzi io purtroppo insomma vi devo salutare perché il nostro tempo a disposizione insomma è davvero arrivato alla fine ma secondo me vale la pena di rincontrarsi perché gli argomenti sono molti intanto per riascoltare anche questo tuo brano porterò il mio pianoforte e la faremo dal vivo benissimo magari con la nostra Giulia che è stata una delle prime cantanti perfetto lo faremo dal vivo assolutamente ovviamente non potrà mancare magari assolutamente ancora qualche immagine di questa città che accoglie a braccia aperta aperte la festa dei nonni e ovviamente ormai siamo anche un po' olandesi e quindi staremo di nuovo insieme io saluto e ringrazio Charles Landorf Walter Bassani e Claudiano Di Caprio per essere stati qui e per questa cosa meravigliosa che a me ha emozionato tantissimo grazie a te grazie davvero grazie anche a voi per essere stati con me rimanete lì come ogni sera tra poco la linea ai colleghi dell'informazione grazie a tutti